Per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 12 dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, consumo e produzione responsabili, le aziende possono intraprendere azioni in diverse macro aree che esprimono in vario modo le creazioni della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Queste macro aree sono efficienza produttiva e gestione sostenibile, ad esempio mirando a raggiungere gli standard ISO 14001, riducendo la stampa di materiali tramite badge e l'uso di documenti digitali, promuovendo la raccolta differenziata e puntando al recupero degli scarti delle materie prime, comunicazione esterna trasparente, ad esempio utilizzando etichette che consentano la tracciabilità dei prodotti, promuovendo pratiche di consumo responsabile, coinvolgendo anche gli stakeholder nella definizione della strategia di sostenibilità aziendale e riportando informazioni inerenti alla stessa nel sito web e nelle rendicontazioni. Formazione interna sulle tematiche di sostenibilità, ad esempio coinvolgendo i propri collaboratori e fornitori in percorsi sui modelli di produzione e consumo sostenibili, implementando il loro engagement nella comunicazione della sostenibilità aziendale tramite blog, podcast o pagine dedicate. Sostegno al territorio, ad esempio portando la propria testimonianza ad eventi sulla sostenibilità dedicati ad aziende, università e cittadinanza e coinvolgendo direttamente i collaboratori in cause sociali tramite donazioni in busta paga, payroll giving o raccolte aziendali di materiali per supportare associazioni del territorio. Come vedi essere sostenibile non è poi così difficile, impegnati realmente nel cambiamento per non restare indietro, il mondo non ti aspetta! Grazie a tutti!